Operazione Keep Solofrone Clean è così denominata l'azione di salvaguardia e difesa del fiume Solofrone nei confronti di 21 industrie operanti tra Agropoli, Ogliastro Cilento e Cicerale. 13 di queste hanno violato le regole ambientali a danno del fiume. L'attività investigativa è stata portata avanti dalla Guardia Costiera di Agropoli, diretta da Giulio Cimmino, che ha coordinato il nucleo di polizia ambientale, fortemente voluto dal procuratore di Vallo della Lucani, Antonio Ricci. Dopo due anni di indagini, i militari in sinergia con l'ARPAC hanno scoperto che i valori di cromo del fiume Solofrone erano superiori alla media. Scattate le indagini su 21 industrie, il nucleo di polizia ne ha denunciate e sanzionate 13 per la maggior parte opifici, con mancanza di vasche per lo smaltimento dei fanghi, alcune perfino senza nessuna autorizzazione ambientale. Le sanzioni complessive ammontano a 390 mila euro, con una media di 35 mila euro ad azienda. L'operazione prende le mosse nel 2017, quando la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, ricevute le risultanze analitiche ARPAC sulla qualità delle acque del Solofrone, ha notato che alcuni valori, come quelli del cromo, erano stati superati rispetto ai limiti tabellari. Parliamo comunque di superamenti non allarmanti, ma comunque dei superamenti. per cui ha voluto far luce sulla vicenda e ha costituito un pool investigativo ambientale a cui ha preso parte la Guardia e Consigliere di Agropoli sotto il coordinamento della Capitania di Porto di Salerno e il personale tecnico ARPAC. Sono state investigate 21 attività industriali nell'areale industriale compreso tra Ogliastro, Cilento, Cicerale e Agropoli. Di questi opifici 13 sono stati sanzionati ai sensi della normativa ambientale vigente, secondo una procedura semplificata che prevede la somministrazione di una serie di prescrizioni con un termine per l'adempimento. Alla verifica positiva dell'adempimento la procedura penale si tramuta in una sanzione amministrativa. In caso di mancato adempimento invece segue il normale corso penale. Il dato che più ci ha fatto piacere nell'ambito di questa defaticante attività ispettiva che è durata circa due anni è che nel corso dell'operazione ci siamo resi conto che molti titolari di azienda, sicuri del fatto che sarebbe arrivato il pool investigativo a fargli visita, si sono adeguati in via del tutto preventiva, hanno adeguato i luoghi di lavoro alla normativa sia ambientale che sulla sicurezza vigente, apportando tutta una serie di modifiche che hanno appunto reso la propria azienda conforme al quadro normativo vigente. Si è trattato proprio di una bella attività sinergica tra la Capitania di Porto e come dicevo l'ARPAC, ovviamente abbiamo gestito come cabina di regia questo tipo di attività che ha portato dei buoni risultati sotto diversi profili come dicevo prima, è un territorio che va salvaguardato e noi siamo qui anche a fare questo tipo di opera, di controllo. Va salvaguardato perché è una importantissima, fondamentale risorse economica di cui non si può assolutamente fare a meno e dunque va tutelata in questo senso. Per me questa, ripeto, come dicevo è una priorità, rimarrà una priorità, mi aspetto ovviamente che ci sia una collaborazione da parte di tutti.